Gli aggiornamenti di oggi riguardano la direzione di Kurakove. Qui le forze russe hanno lanciato un audace assalto contro la cava di carbone Pivdenno-Dombasca, una cruciale fortificazione che si trova a soli due chilometri da Vuledar. Con gli scontri ancora in corso, il destino del complesso è incerto, essendo entrambi gli schieramenti consci del fatto che la sua cattura potrebbe cambiare drammaticamente l'intero fronte di Vuledar. Vuledar rimane una delle fortificazioni più significative e simboliche in mano ucraina. Essendo posizionata sulle alture dominanti e grazie ai suoi distretti residenziali composti da edifici molto alti, permette agli ucraini di controllare una vasta porzione dell'avanzata russa. Inoltre la sua vicinanza a due strade principali, la T-0509 per Velika-Novosilka e la T-0524 per Kostiantinivka, la rende un importante centro logistico. Negli ultimi due anni le forze russe si sono ripetutamente scontrate contro le difese di Vuledar, cercando di catturarla con attacchi frontali meccanizzati ma soffrendo catastrofiche perdite. Negli ultimi giorni hanno ripreso le operazioni offensive sia a Vuledar che contro Vodianè. L'estensiva preparazione d'artiglieria e i suoi danni sono stati confermati da queste immagini satellitari. I russi hanno anche cambiato strategia, passando da salti frontali a tentativi di accerchiamento da sud e nord-est. A nord-est sono riusciti a spostare la linea del fronte in prossimità della T-0532 e sarebbero riusciti a superarla e stabilire posizioni poco oltre. Questo rende la strada ovviamente inutilizzabile per gli ucraini. Gli attacchi a sud, che puntano verso Precistivka, stanno mettendo un'enorme pressione sulla T-0509. Fortunatamente per le forze ucchiane è ancora disponibile la linea logistica che passa per la strada da Boialenka. In più, il clima secco permette ancora l'uso delle quasi infinite strade di campagna per complementare alla via principale. Un prominente analista militare russo ha di recente dichiarato che le forze russe hanno superato la strada sud-est di Vodianè e stanno provando ad avanzare verso l'insediamento. Alcune fonti suggeriscono che le prime formazioni siano riuscite a entrare nell'area nord di Vodianè, ma con progressi molto limitati. Sarebbero però più critiche le notizie dell'avanzata russa verso la prima miniera di carbone Pivdenno-Dombasca, che si trova a soli due chilometri e mezzo da Vuledar. Questo complesso è una delle più importanti miniere dell'intera Ucraina. Aperta nel 1973, è caratterizzata da gallerie situate a 500 metri dalla superficie e le strutture industriali sono servite da fortezza e di supporto per contrastare gli assalti russi contro Vuledar. Geolocalizzazioni pubblicate da fonti ucraine mostrano fanteria russa supportata da un BMP-2 che assalta un sito industriale facente parte del complesso. Il veicolo è stato colpito, ma è riuscito a ritirarsi. Mentre questo incidente isolato sembra trattarsi più di un attacco sonda che parte di un assalto più grande, la risposta Ucraina dimostra che gli stessi principi che hanno caratterizzato l'impenetrabile difesa di Vuledar dagli ultimi due anni sono ancora in vigore. Ricognizione in grado di avvistare per tempo gli assalti nemici, l'efficace combinazione di mine, ATGM, artiglieria e droni hanno nuovamente fermato l'ennesimo attacco russo. La potenziale perdita della miniera sarebbe catastrofica per diverse ragioni. Innanzitutto non è solo costituita da edifici piuttosto alti, ma anche da una considerevole montagna di scarti. Se guardiamo la mappa topografica, possiamo vedere infatti che il Terricon forma un'altura dalla quale i russi potrebbero monitorare e controllare i movimenti ucraini mettendo a rischio gli sforzi difensivi. La zona industriale è inoltre distante solo due chilometri e mezzo, una posizione conveniente per accumulare forze ed equipaggiamento da poi dirigere verso Vuledar stessa. Tuttavia, per tutte queste ragioni, gli ucraini hanno senza dubbio accumulato sufficienti rifornimenti e munizioni, quindi la presa della miniere e dell'area industriale non saranno una cosa facile per i russi. Difendere miniere e Vuledar è essenziale per le forze ucraine, poiché con esse sotto il controllo delle forze russe, i russi avrebbero accesso a un significativo spazio operativo, essendo l'aria alle spalle di Vuledar completamente priva di insediamenti e fortificazioni degni di nota. I bastioni successivi sarebbero un nuovo ucrainka, che si trova anch'essa su una collina creando le stesse situazioni di Vuledar. In generale, la situazione intorno a Vuledar rimane tesa, ma non assolutamente critica. Le forze russe stanno sì facendo progressi nei loro tentativi di accerchiamento e potrebbero mettere in pericolo la fortificazione ucraina in futuro, ma le capacità logistiche ucraine sono ancora a pieno regime, così come ogni sezione difensiva ed elemento tattico. Questi giorni saranno cruciali nel determinare che avrà la meglio a Vuledar. Se siete contro l'invasione dell'Ucraina e volete supportare il nostro lavoro, potete fare acquisti nel nostro negozio ufficiale. Qui potete trovare numerosi prodotti riportanti i simboli ucraini per mostrare il vostro supporto al canale e per l'Ucraina. Potete trovare il link in descrizione. Grazie per l'ascolto, anche per oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti.